Ancora un'esercente rapinata in città ad essere presa di mira la titolare di un ristorante pizzeria di Udine rapinata da un uomo mentre rincasava il terzo caso in 20 giorni tra i commercianti e allarme. La Cimolai di Pordenone potenzia il polo di Monfalcone forte di nuove commesse investimento da 10 milioni di euro per ampliare lo stabilimento di 60 mila metri quadri serviranno 100 nuovi dipendenti. I giovani udinesi preferiscono fare i loro acquisti nei centri commerciali solo nel 16 per cento dei casi scelgono i canali online emerge da un'indagine di conf commercio su un campione di 740 ragazzi. Polemica per il nuovo anatema scritto da Don Alberto Parroco di Resi nel mirino la battaglia ambientalista sostenuta da Greta Thunberg lo stesso prelato paragonò le gambe scosciate delle sue fedele ai prosciutti di San Daniele. Nelle ultime tormentate stagioni l'unica conferma era stata quella di Del Neri ma fu più sofferta e tifosi apprezzano la veloce conferma di Tudor convinti dai 18 punti in 11 partite del Croato. Buonasera a tutti voi ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Ancora un'esercente rapinata a Udine è il terzo caso in 20 giorni ad essere presa di mira è stata verso mezzanotte di ieri la titolare del ristorante pizzeria Alfaro di via Colugna. Uno sconosciuto l'ha seguita fuori dal locale la stratonata sulla strada di casa facendola cadere a terra e rubandole la borsa con l'incasso della giornata. Ha deciso di raccontare l'accaduto per mettere in guardia i colleghi. ci può descrivere cos'è successo? Niente ieri mezzanotte vado a casa scendo dalla macchina di un nostro amico che mi ha accompagnata supero il cancello in strada e vado verso il portone dell'abitazione del condominio. Quindi ho sentito dei rumori nei cespugli mi sono girata un attimo perché pensavo fosse qualche gatto qualcuno e in tre passi praticamente ho subito questo agguatto di una persona che mi è venuta contro mi ha strappato la borsa mi ha tirata giù per terra ed è scappata in 448 un uomo molto robusto e agile. Quanto le hanno sottratto? Guardi la cifra non lo so comunque quel incasso della giornata tutti i documenti quindi dovrò rifare tutto da capo e la paura e lo spavento che ho preso. Signora secondo lei è stata seguita dall'uscita dal ristorante? Secondo me perché era situato dietro a questi cespugli incappucciato quindi era lì in mia attesa. Vuole consigliare qualcosa ai suoi colleghi? Di stare attenti, di fidare di qualsiasi persona perché non siamo più tranquilli, siamo a rischio. E le segnalazioni di furti e rapine ai danni di commercianti dei recenti in modo particolare nel momento di chiusura delle loro attività hanno indotto ConfCommercio a collaborare con le forze dell'ordine. Secondo Donatella Colauta, componente del Consiglio di ConfCommercio, il ruolo più importante lo esercita la prevenzione. Noi come ConfCommercio siamo in prima linea impegnati a collaborare con le forze dell'ordine naturalmente e anche in questa occasione mi faccio interprete delle richieste dei nostri associati per cercare di mediare e di interpellare e di segnalare tutto ciò che riceviamo. Per dire la verità non è un allarme importante. Io in particolare lavoro in farmacia e le farmacie sono sempre state molto molto a rischio. Sono state un bersaglio, ci sono stati in passato vari episodi ma ci siamo in qualche modo attrezzati e quindi cerchiamo di fare prevenzione. Questo lo raccomando un po' a tutti i commercianti. Si può fare prevenzione con un po' di attenzione soprattutto nei momenti di chiusura delle attività, dei locali, dei ristoranti, momenti più critici per le aggressioni e per gli scippi e per i furti. Sta per cominciare un fine settimana da Bollino Rosso sulla rete autostradale di Autovie Venete. I consigli per chi si mette in viaggio. Primo giorno di intenso traffico per l'ascensione sulla A23 e sulla A4. Siamo andati nel centro radioinformativo per capire quali sono le previsioni per i prossimi giorni. La situazione in questo momento è tranquilla. C'è stato traffico come da previsioni in mattinata. Abbiamo raggiunto un picco di 10 km di coda tra Udine e Sud e il nord di Palmanova. La direzione del traffico va verso le zone di mare. Ci aspettiamo traffico anche domani, sempre verso le direzioni di mare, quindi verso Lignano, Bibione, Iesolo e Caorle, per poi avere un po' di tranquillità sabato e mentre domenica ci saranno i ritorni. Quindi bisogna aspettarsi traffico nel senso contrario, di sempre verso la A23, dalla A4 verso la A23 verso Tervisio. Queste sono situazioni previste, quindi abbiamo la massima forza in campo. Noi abbiamo la nostra centrale operativa H24, possiamo contare su una forza di 47 ausiliari del traffico, abbiamo circa 150 telecamere e un centinaio di pannelli a messaggio variabile sia in ingresso che in itinere. Queste giornate innanzitutto si consiglia di informarsi prima di partire, ci sono molti metodi per farlo. Noi consigliamo l'app di Info Viaggiando o il numero verde 899 6099 o il nostro sito. Consigliamo anche di viaggiare riposati, di prepararsi per il viaggio e di rispettare le distanze di sicurezza e i limiti di velocità. Traffico e code, dunque in A4 e siamo andati a sentire l'umore degli automobilisti nell'area di servizio di GONARS. Da dove arrivate? Da Vienna, Austria. Avete trovato cosa stamattina? No, niente, nulla. Facciamo parte di una squadra rugby austriaca e ci sarà un match a Codroipo. Avete paura di entrare in autostrada con tanti incidenti, code, traffico? No, ogni giorno a Vienna siamo abituati. Ma lei ha paura di entrare in autostrada con tutto questo traffico? Beh, in questo caso sì perché ci sono i lavori in corso, bisogna fare attenzione un attimino ad entrare. Sicuramente bisogna prestare paura, no, però bisogna prestare molta attenzione. Voi viaggiate in moto, ma vi sentite sicuri in autostrada? Sì, diciamo che stiamo tranquilli, dai. A parte si rispettano tutte le velocità, ci sono i limiti, si viaggia bene, dai. Viaggiando in moto non si può usare il telefono? No, è impossibile, non si potrebbe, è una cosa impossibile. Ma lei ha il telefono in mano e si sta per mettere al manubrio di una moto? Esatto. Ma è la sicurezza? Ma non sono in moto, non ho neanche il casco, non ho i guanti, quindi salirò in moto con il telefono sulla tasca. Bene, viaggiare in moto è comunque pericoloso. È più pericoloso ancora se si viaggia in autostrada? Bisogna stare molto attenti, molto, molto. Sì. Come vi sembra l'A4? Voi arrivate dalla Sardegna? Esatto, dalla Sardegna, sì. Abbastanza trafficata e con tanti cantieri. Sulla 4 è un casino. Sulla 4 da Trieste a Venezia tutto è un casino, perché sono due corsi. Tante volte si dà la colpa degli incidenti proprio a chi guida i camion. Quando è incidente, è incidente. Non lo so come si dica. E tre incidenti stradali si sono verificati quasi contemporaneamente oggi in provincia di Udine. Tra i feriti c'è anche un ragazzo di 17 anni. Raffica di incidenti stradali nel pomeriggio a Santa Maria La Longa sulla regionale una ragazza di 26 anni di Tarcento ha perso il controllo dell'auto finendo contro un palo e poi in un fossato. Rimasta incastrata è stata estratta dai pompieri di Cervignano e poi trasportata all'ospedale di Udine. Incidente stradale anche a Corno di Rosazzo tra una moto e un'auto Smart per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della radiomobile della compagnia di Palmanova. Ad avere la peggio il conducente della due ruote, un ragazzo di 17 anni del posto portato in volo all'ospedale di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita. Illeso invece il conducente della Smart, un ragazzo di 20 anni del posto. Incidente infine a Buttre in via Sotomonte dove due giovani sono finiti contro il muro di villa di Topoflorio con una Toyota. distrutta la vettura, illesi i conducenti, i rilievi della polizia locale di Cividale. In tribunale a Udine si è aperto questa mattina il processo a carico di Jamil Shaliwal, il giovane afgano di 25 anni accusato di aver ceduto la dose letale di eroina mortale ad Alice. La giovane 16enne ftiulana è deceduta in un bagno della stazione ferroviaria di Udine. L'uomo è accusato della cessione dello stupefacente e della morte come conseguenza non voluta. altro delitto. Il processo disposto con giudizio immediato si è aperto direttamente davanti al tribunale collegiale. In aula si sono costituiti parte civile e familiari della vittima, i genitori e le due sorelle della ragazza, con l'avvocato Marco Cavallini per capire cosa sia veramente successo e avere giustizia. La sorella maggiore era presente in aula e c'era anche l'imputato che assistito dall'avvocato Giovanni De Nardo si trova in custodia cautelare in carcere. Tra gli atti prodotti dal pubblico ministero Andrea Gondola anche una serie di immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza della stazione. Il processo è stato poi rinviato alla prossima udienza in programma il 13 giugno quando verranno ascoltati i primi testimoni. La pagina dell'economia, grazie ad importanti commesse, la Cimolai di Pordenone è pronta ad ampliare lo stabilimento di Monfalcone e sono previste 100 nuove assunzioni. La Cimolai di Pordenone si prepara a potenziare il polo di Monfalcone. A seguito dell'acquisizione di alcune importanti commesse, l'azienda guidata da Luigi Cimolai ha iniziato i lavori di ampliamento della propria unità produttiva nella città dei cantieri. Con un investimento di più di 10 milioni di euro e un aumento di 12 mila metri quadri, la superficie coperta dello stabilimento raggiungerà i 60 mila metri quadrati. Nei prossimi mesi, la società conta di aumentare il personale impiegato a Monfalcone di circa 100 unità. Tra le più importanti commesse ci sono la realizzazione, in collaborazione con la Mariotti di Genova, di due navi da crociera per il gruppo Carnival, lunghe 180 metri, che verranno prodotte nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro e il nuovo sistema di sollevamento poppiero per la nave Pioneering Spirit della compagnia Alleas, che verrà realizzato proprio a Monfalcone. Ma non è tutto, la Cimolai è attiva su più fronti. Dal 2014 è impegnata nella realizzazione del Cours Philippe Chartier, il principale stadio del Roland Garros, il prestigioso torneo di tennis che si sta disputando in questi giorni a Parigi. Costruito nel 1928, lo stadio ha subito negli anni svariati rimaneggiamenti, fino alla decisione della Federazione Francese del Tennis nel 2011 di dare il via a una ricostruzione totale. Il progetto prevede la costruzione di tribune più capienti, attività già ultimata per permettere lo svolgimento del torneo 2019, e l'installazione di una copertura mobile in acciaio. Questa seconda fase inizierà a breve e terminerà a primavera 2020. La copertura sarà costituita da 11 travi a cassone, nelle quali una fissa, e le altre mobili realizzate nello stabilimento di Monfalcone. Ciascuna delle travi ha un'altezza di circa 3 metri, una luce di oltre 100 metri e un peso di 300 tonnellate. L'intera copertura, una volta completata, potrà aprirsi totalmente in soli 12 minuti. Il Flip Chatrier rappresenta per la Cimolai il secondo stadio realizzato per il Grande Slam, avendo completato lo scorso anno la costruzione del Louis Armstrong Stadium di New York, sede degli US Open. I giovani udinesi preferiscono acquistare nei centri commerciali, piuttosto che online, emerge da un'indagine di ConfCommercio effettuata su 740 ragazzi. Il 60% dei ragazzi della provincia di Udine acquistano i centri commerciali, il 24% nei negozi tradizionali e il 16% nei canali online. È quanto emerge dall'indagine ideata e promossa dal gruppo Giovani Imprenditori di ConfCommercio di Udine, che ha coinvolto 740 persone, il 68% delle quali tra i 18 e i 20 anni. Abbiamo fatto un sondaggio che coinvolge oltre 740 studenti di tutta la provincia di Udine e i dati che emergono sono relativi alle esperienze di vita e di acquisto che fanno le nuove generazioni. È un dato che come gruppo Giovani Imprenditori abbiamo cercato di sviluppare in questo percorso di alternanza scuola-lavoro per capire quali sono le esigenze, quali sono i desiderata dei giovani in un'ottica di socialità, di rapporto con il contesto, di rapporto urbano e in un'ottica anche di acquisto. Il futuro quindi quale potrà essere? Più acquisti con l'e-commerce? Dipende sicuramente dal settore, ogni settore merceologico ha diverse risposte. Una cosa che è emersa evidentemente da questa ricerca è l'omnicanalità, cioè il fatto che ormai l'esperienza d'acquisto non deve essere solo nel centro commerciale o nel negozio fisico. Vogliono il consiglio prima, vogliono poter scegliere magari da casa il capo d'abbigliamento, poi arrivare in negozio e trovarlo pronto o trovarlo disponibile. Quindi avere più servizi, più possibilità di interazione, avere un rapporto con il negoziante che ti consiglia, avere la possibilità di scegliere prima da casa, quindi fare un'analisi precedente all'acquisto. Insomma, essere presenti su più canali, su più piattaforme è sicuramente una delle chiavi per essere aggiornati e in qualche modo soddisfare le esigenze dei giovani. Prima intervista pubblica dell'europarlamentare uscente Isabella De Monte, che ieri sera ha screenshot, ha analizzato i risultati alla recente campagna elettorale, la situazione all'interno del PD. De Monte ha raccolto 41.000 preferenze, ma non è riuscita ad essere rieletta. Altri candidati invece con un numero di preferenze inferiore alla metà di De Monte andranno a Strasburgo e questo per effetto dei meccanismi elettorali di dimensioni dei collegi che, secondo De Monte, penalizzano il futuro di Venezia Giulia. Questa legge elettorale avrebbe assolutamente cambiata, perché questa volta c'è un fatto veramente straordinario di avere ben tre eletti della regione, ma nel passato non è stato così, magari non ci sono stati proprio eletti, invece noi ne abbiamo quanto mai bisogno perché siamo una regione appunto periferica, questo sì rispetto all'Italia, ma che è centrale rispetto all'Europa. Cosa avete sbagliato in questi anni? È questione secondo me molto di leadership. Quando adesso succede che si trova un leader molto forte, che tira, le persone danno fiducia a quei leader. Questo vuol dire che non è un leader forte, Zingaretti? Non è sicuramente Renzi, però piaceva molto anche Gentiloni, quando hai un leader che è trascinatore, poi diventi un riferimento molto forte per gli elettori. Cambio al vertice dell'Azienda Sanitaria 5 del Friuli Occidentale. Il direttore generale Giorgio Simoni in scadenza di contratto si è dimesso per andare in pensione. Al suo posto è stato nominato Eugenio Possamai. Giorgio Simoni si è dimesso oggi da direttore generale dell'Azienda Sanitaria 5 del Friuli Occidentale. Dopo giorni di riflessione ha deciso di rassegnare le dimissioni e fare domanda di pensionamento. Ieri sera ha informato i suoi collaboratori oggi il passaggio ufficiale. Sulla sua figura, era l'unico direttore rimasto al suo posto nelle aziende sanitarie della regione dopo l'arrivo della nuova giunta, si era scatenata una battaglia politica. Le forze di centro-sinistra premevano per il suo rinnovo, dal centro-destra si chiedeva il commissariamento dell'Azienda Sanitaria Pordenonese. La decisione spettava il presidente della regione Massimiliano Fedrighe, all'assessore alla sanità Riccardo Riccardi. Il contratto di Simon scadeva a fine maggio e ci sarebbe stata la possibilità di prolungarlo, almeno fino a fine anno. Ma il direttore ha preferito scegliere di fermarsi optando per il pensionamento. Curiosità vuole che in questi ultimi giorni di lavoro, spiega, io sia a Bari per un convegno nel quale porterò la testimonianza di come questa azienda sanitaria funzioni bene. Credo, conclude, di avere fatto un buon lavoro, ma ho preferito fermarmi. Simon non vedrà dunque la realizzazione finale del nuovo ospedale di Pordenone, della cittadella della salute, per i quali sono iniziati i lavori sotto la sua direzione. Era stato nominato direttore generale il 6 maggio 2016 dalla presidente Deborah Serracchiani e dall'assessore Maria Sandra Telesca. Al posto di Simon, la giunta regionale ha nominato commissario dell'azienda sanitaria 5 Eugenio Possamai, attuale direttore approvvigionamenti, economato e logistica del Crodi Aviano. Assumerà l'incarico il prossimo 10 giugno e lo manterrà fino alla nomina del nuovo direttore generale, che dovrà comunque avvenire entro la fine dell'anno. Pioggia nel reparto di anestesia e rianimazione 2 dell'ospedale di Udine è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì a causa del maltempo dal tetto del quarto piano. Si sono verificate infiltrazioni ai piani più bassi e il personale sanitario ha provveduto lo spostamento dei degenti nei due reparti. Il personale tecnico specializzato in queste ore sta verificando lo stato dei macchinari presenti nelle stanze e la funzionalità degli impianti elettrici. C'è dai primi riscontri, sembra comunque che non si siano verificati danni né alle attrezzature né ai cavi. Appena terminerà il check-up, l'azienda provvederà al ripresino degli ambienti per tornare alla normale attività. È nuovamente polemica in Friuli per il nuovo anatema scritto da Don Alberto, il parroco di Resia. Dopo il caso sollevato a gennaio, quando paragonò le gambe scosciate delle sue giovani fedeli ai prosciutti di San Daniele, il prete 31enne ha attaccato alla battaglia ambientalista sostenuta da Greta Thunberg e da milioni di giovani in tutto il mondo. Un punto di vista diametralmente opposto a quello di Papa Francesco, che proprio poche settimane fa aveva esortato la sedicenne svedese, ad andare avanti con le sue manifestazioni. Nell'ultimo foglio parocchiale, Prelato ha minimizzato il pericolo del suo riscaldamento globale, spiegando che gli unici risultati tangibili si possono avere solamente pregando il Signore. Non sarà Greta a salvare il mondo, anche perché non possiamo credere ciecamente ai catastrofismi dei cambiamenti climatici. Ha scritto, la scienza ci dice che i climi cambiano da un decennio all'altro, quindi non sarà la lotta al suo riscaldamento a salvare il mondo. Sarà Gesù Cristo e la fede in Lui, o forse dovremo andare tutti in Svezia a prendere lezioni su come salvare l'ambiente. Con marce, manifestazioni, conferenze, libri, ci vuole preghiera e fede, ha poi ribadito in conclusione al suo pensiero. Paolo Valle è il nuovo presidente del Consorzio di tutela dei vini dei Colli Orientali del Friuli. Succede a Michele Pavan, che resterà nel Consiglio di Amministrazione. I vicepresidenti sono Demi Sermacora e Maurizio Zacco. Mera del Consiglio di Amministrazione, rinnovato nei giorni scorsi, entrano a far parte cinque nuovi componenti. Alessio Dorigo, Matteo Lovo, Claudio Novello, Federico Stropolatini e Alessio Zorzetti. Sono confermati Filippo Butussi, Federico De Luca, Filippo Felluga e Michele Pace Perusini. Il Consorzio riunisce circa 200 soci, 150 dei quali imbottigliatori. Gli ettari iscritti all'albo sono circa 2000, dai quali si producono oltre 80.000 ettolitri di vino doc. E parlando di vini, nel suo ambito è l'evento più antico d'Italia. Stiamo parlando della Fiera dei Vini di Butrio, che è giunta all'87esima edizione. Si svolgerà a Villa Topo di Florio dal 6 al 9 giugno. Oltre alla possibilità di degustare 250 etichette delle Friuli Venezia Giulia, prevede una cinquantina di appuntamenti dedicati a tutte le età. Butrio è pronta a ospitare da 6 al 9 giugno l'87esima edizione della Fiera regionale dei Vini, che si terrà a Villa di Topo Florio. La rassegna, che è la più antica d'Italia del suo genere, prevede una cinquantina di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età. Ci sarà una giornata in più. Non si incominzerà venerdì, sabato e domenica, ma giovedì sera. In questa occasione a Butrio ci sarà questa possibilità di degustare con i vini dei produttori di Butrio le caratteristiche del pesce e dei prodotti carnici, sostanzialmente. Punto di richiamo ai vini autoctoni selezionati nell'enoteca della manifestazione in collaborazione con la guida Vini Buoni d'Italia del Touring Club. 250 etichette del Friuli Venezia Giulia selezionate, 160 delle altre regioni d'Italia, con uno speciale braccialetto giornaliero che consente di degustarne quante se ne vuole. Il Touring Club è una delle associazioni più vecchie italiane, nasce nel 1894 e ha sempre portato avanti il turismo. All'epoca non c'era l'enoturismo come invece c'è oggi e quindi questo binomio funziona. Peraltro avremo anche quattro laboratori durante la fiera, uno dedicato ai vini piemontesi al Barolo, uno all'Aglianico, uno al Tazzeleng e uno ai vini di Miani di un'azienda. La fiera regionale dei vini di Butrio, presentata nella sede della regione Audine, ha visto la prima uscita ufficiale del neoeletto sindaco Eliano Bassi. La fiera dei vini è un'occasione per Butrio per mettersi in evidenza. Il vino è storia, è tradizione, è cultura, è opportunità turistica, opportunità economica e noi dobbiamo sviluppare tutte queste potenzialità che abbiamo in zona. Andiamo a Monfalcone dove il Comune ha ricevuto un riconoscimento per l'impegno nella raccolta differenziata. Capitan Gacciaio, tre giorni in piazza a Monfalcone per uno scopo molto importante. Siamo a Monfalcone perché vogliamo ringraziare la cittadinanza, perché con la loro attività di raccolta differenziata che fanno tutti i giorni presso le loro case, noi del Consorzio Ricrea riusciamo ad avviare il riciclo gli imballaggi metallici. Questo cosa vuol dire? Che fare la raccolta differenziata serve, non è vero che poi va tutto insieme. Ci sono degli impianti di separazione e di selezione, come nel caso della città di Monfalcone c'è l'impianto a Moraro di Zontina Ambiente, perché l'obiettivo finale del Consorzio, ma anche della raccolta differenziata, è proprio quello di avviare il riciclo e di far tornare a nuova vita un materiale che c'è già in circolo. E questa iniziativa, che si chiama Capitan Gacciaio, è presente in piazza Unità d'Italia a Monfalcone, fino al 31 maggio. Sensibilizza il riciclo di un'importantissima materia, io non lo chiamo rifiuto, perché una lattina di tonno, una lattina, un barattolo usato, è una risorsa, è una materia che si può riciclare al 100%, per cui l'importanza di non buttare in maniera indifferenziata questa risorsa, è sinonimo non solo di un comportamento civile, ma di una sensibilità verso l'ambiente che, ahimè, in questi ultimi anni è stato bistrattato. Si tratta di oltre 4 kg per abitanti recuperati durante l'anno scorso nel Fiorevivenza Giulia, sono numeri elevatissimi, molto più elevati della media nazionale e testimoniano veramente quello che è l'attenzione, visto che gli imballaggi in acciaio, lattine e quant'altro, sono una parte di quello che è il rifiuto che viene differenziato e così viene riavviato a nuova vita. Dunque questo premio va dedicato veramente ai cittadini che si impegnano a questo livello. Bravi, continuate così, grazie. E noi ora andiamo a Villa Manin, che si prepara un'estate particolarmente intensa. Un programma all'insegna dei grandi eventi, quello previsto per l'estate a Villa Manin, che vedrà protagonisti alcuni nomi molto noti della scena musicale italiana internazionale, come il compositore pianista e polistrumentista Jan Tersen, Giorgia al ritorno live in regione, il leader dei Radiohead Tom York e il duo jazzistico composto da Stefano Bollani e Hamilton de Olanda. Per quest'anno abbiamo pensato a un'estate particolarmente ricca per valorizzare la villa anche nel momento di chiusura del corpo gentilizio, mentre non ci sono le mostre importanti. Ci saranno poi molte iniziative per i bambini e per i ragazzi, a partire dal percorso Caccia alla favola, che è stato pensato da Francesco Altan e che consente ai bambini, attraverso una mappa, di conoscere la bellezza straordinaria del parco di Villa Manin. Villa Manin organizzerà anche poi le iniziative al magazzino delle idee a Trieste, in particolare proseguirà l'attività sulle mostre fotografiche, quindi un'estate ricca per portare le persone a Villa Manin per conoscere non soltanto il nostro patrimonio culturale, ma anche tutta una serie di proposte artistiche innovative, accompagnate anche dalle residenze artistiche che stanno a Villa Manin che offriranno due spettacoli al pubblico e dalle attività del Master in Photography che anch'esse si apriranno al pubblico con momenti di dialogo e anche di piccola formazione. C'è un nuovo elemento nel parco macchine della Protezione Civile di Udine, è stato presentato in Piazza Libertà. Da oggi la Protezione Civile di Udine può contare su un nuovo mezzo nel suo parco macchine. Piazza Libertà ha ospitato infatti il battesimo dell'ultimo automezzo a disposizione dei volontari, un van 4x4 telonato con all'interno anche una piccola gru, molto utile sia nelle fasi dell'emergenza che in quelle post-emergenziali. Si tratta appunto di un mezzo telonato, un furgone telonato che abbina oltre ad avere un comfort di marcia anche un'elevata capacità di carico. Nello stesso mezzo abbiamo fino a 6 persone per poter viaggiare tranquillamente e abbiamo anche nella parte posteriore ovviamente un'elevata capacità di carico, quindi un cassone di carico che per facilitare ovviamente le operazioni di carico e scarico è provisto anche di una gru manuale per il sollevamento da terra di circa 200 kg. Io sono molto affezionato e devo sempre ringraziare questi volontari che mettono a disposizione il loro tempo libero e non solo, perché quando ci sono le emergenze sono chiamati durante la notte in qualsiasi momento della giornata ad intervenire e portare aiuto ai cittadini. Anzi, mi prometto di aumentare le dotazioni, chiederemo alla Regione di avere ancora più mezzi perché la città di Udino è una città di 100.000 abitanti e che chiaramente ha bisogno di più persone. Anzi, faccio un appello attraverso la TV perché la gente, i giovani in particolare, si avvicinino a questa struttura, c'è bisogno di volontari, c'è bisogno di gente che metta a disposizione il proprio tempo. E ora parliamo di Udinese. Tutti con Igor Tudor, la scelta di confermare il tecnico accontenta la piazza che temeva un nuovo inizio. Fu Del Neri l'ultimo allenatore bianconero ad essere confermato a fine stagione, ma per quel sì andiamo avanti si attese un po', fu piuttosto sofferto. Il sì tra Igor Tudor della società arriva invece tre giorni dopo la fine del campionato in mezzo giusto un assaggio di quei rincorsi e di voci che solitamente accade in questi casi. Il paventato interesse di Geno e Sassuolo per il tecnico croato e la sua voglia di ritoccare a rialzo il contratto, il fantasma di Inzaghi è avvistato a Udino dopo l'ultima apparizione in occasione della partita contro la spalla. Le parti essenziali del copione, insomma, sono state rispettate, ma appena accennate quasi da prassi, senza incidere minimamente sui tempi né sull'esito positivo della storia. Per Tudor è stato un plebiscito ed addetti ai lavori e soprattutto dai tifosi che mal avrebbero digerito l'ennesimo ribaltone. Due prove sono state sufficienti per far scoppiare, se non l'amore, almeno la grande stima per il tecnico croato. Da parte del pubblico che è scottato quest'anno, non si è sbizzarrito in voli pindarici, vedassi Donadoni, Pioglio e chissà ancora chi. Meglio la concretezza e i fatti. 18 punti in 11 giornate, 7 nelle 4 della passata stagione. Di fronte all'avventura negativa di Inzagli sulla panchina del Bologna, Tudor ha vinto facile agli occhi dei tifosi. Pacificati anche dai tempi, non volevano telenovela e ora tendono altre realistiche puntate. Oggi un paventato interesse per Lazzo, vicieri per Paganini. Intanto in casa Okaka si attende di incontrare la società. Nessuna notizia. Vedremo se la conferma di Tudor accelererà in un senso o nell'altro l'Iter. E intanto Udine si prepara agli europei Under 21 e c'è un accordo tra la FIGC e l'Udinese in vista del torneo. Tutti i tifosi dell'Udinese che acquisteranno il mini abbonamento per le tre gare dell'Europeo, quelle di qualificazione in programma allo Stadio Friuli, si vedranno scontare l'abbonamento alle partite interne dell'Udinese del campionato 2019-2020. E per poter beneficiare della promozione, oltre all'acquisto del mini abbonamento, sarà necessario il suo utilizzo in tutte e tre le gare del girone, Germania-Danimarca del 17 giugno, Danimarca-Austria del 20 e Austria-Germania del 23. Poi vi ricordiamoci sarà la finale il 30 giugno. E chiudiamo con il Pordenone, perché arriva ancora una conferma in casa neroverde, quella che riguarda il capitano Mirko Stefani. Il contratto è stato prolungato fino al giugno 2021, la prossima stagione si riepissi dalla quinta del difensore che conta 148 presenze con la maglia del Pordenone. Ci fermiamo qui, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, a voi la godine di un buon proseguimento di serata su Telefriuli. Grazie per aver guardato il nostro canale.